I pazzi mi attirano. Vivono in un paese misterioso di sogni bizzarri, in quella nube impenetrabile della demenza, dove tutto quello che hanno visto sulla terra, tutto quello che hanno amato, tutto quello che hanno fatto ricomincia per loro in una esistenza immaginata al di fuori di tutte le leggi che governano le cose e regolano il pensiero umano. Per loro l'impossibile non esiste più, l'inverosimile scompare, il fantastico diventa realtà, il soprannaturale familiare. Questa vecchia barriera, la logica, questa vecchia muraglia, la ragione, questa vecchia scala delle idee, il buonsenso, si sbriciolano, si abbattono, crollano davanti alla loro immaginazione lasciata libera, fuggita nel paese illuminato dalla fantasia e che corre con balzi favolosi e non più fermata da nulla. Per loro tutto capita e tutto può capitare. Non fanno sforzi per vincere gli avvenimenti, per piegare le resistenze, per rovesciare gli ostacoli. Basta un capriccio della loro volontà, capace di illudere, perché siano principi imperatori o dei, perché posseggano tutte le ricchezze del mondo, tutte le cose più gustose della vita, perché godano tutti i piaceri, perché siano sempre forti, sempre belli, sempre giovani, sempre amati. Essi soli possono essere felici sulla terra perché per loro la realtà non esiste più. Amocchinarmi sul loro spirito vagabondo, come ci si china su un abisso nel cui fondo spumeggia un torrente sconosciuto, che non si sa da dove venga né dove vada. Ma a nulla serve chinarsi su quei crepacci perché mai si potrà sapere da dove viene quell'acqua né dove va. Dopotutto è un'acqua simile a quella che scorre in pieno giorno e a vederla non si apprenderebbe granché. Allo stesso modo a niente serve chinarsi su quello spirito dei pazzi, perché le loro idee più bizzarre non sono insomma, se non idee già conosciute, strane soltanto perché non più concatenate dalla ragione. La loro sorgente capricciosa ci riempie di stupore, perché non vediamo da dove scaturisce. È bastato certamente un sassolino caduto nella sua corrente a provocare quei ribollimenti. Eppure i pazzi mi attirano sempre e sempre io ritorno verso di loro, richiamato mio malgrado da questo mistero banale della demenza. Ora, un giorno, mentre visitavo uno dei loro asili, il medico che mi accompagnava mi disse, venga, le mostrerò un caso interessante. Feci aprire una cella dove una donna di circa 40 anni, ancora bella, seduta in una grande poltrona, osservava ostinatamente il suo viso in uno specchietto a mano. Appena ci vide, scattò in piedi, corse in fondo alla camera a prendere un velo posato su una sedia. Si avviluppò il viso con gran cura, poi ritornò, rispondendo ai nostri saluti con un cenno del capo. Ebbene, disse il dottore, come sta stamattina? Lei sospirò profondamente. Male, molto male, dottore. I segni del vaiolo aumentano ogni giorno. Il dottore rispose con aria convinta. Ma no, ma no, vi assicuro che vi sbagliate. Lei si avvicinò a lui e sussurrò. No, le sono sicura. Ho contato dieci buchi di più stamattina, tre sulla guancia destra, quattro sulla guancia sinistra e tre sulla fronte. È orrendo, orrendo. Non avrò più il coraggio di farmi vedere da nessuno, neanche da mio figlio, no, neanche da lui. Sono perduta. Sono sfigurata per sempre. Ricadde sulla poltrona e cominciò a singhiozzare. Il dottore prese una sedia, si sedette accanto alla malata e con voce suave, consolante. Su, fatemi vedere. Vi assicuro che non è niente. Con una leggera cauterizzazione vi farò scomparire ogni cosa. Lei accennò di no con la testa, senza una parola. Il dottore fece per toccare il velo, ma lei se lo serrò attorno al volto con tutte e due le mani e con tanta forza che le dita vi si affondarono. Il dottore ricominciò ad esortarla e rassicurarla. Andiamo. Sapete che io ogni volta li tolgo, questi brutti buchi, e che non rimane nulla dopo che li ho curati. Se non me li fate vedere non potrò guarirvi. Lei sussurrò. A voi volentieri, ma non conosco questo signore qui con voi. È medico anche lui e vi curerà anche meglio di me. Allora si lasciò scoprire il viso, ma la paura, l'emozione, la vergogna di essere vista la fecero arrossire fino alla scollatura dell'abito. Abbassava gli occhi, girava il viso, ora a destra, ora a sinistra per scansare i nostri sguardi, e balbettava. Oh, soffro spaventosamente, farmi vedere così. Sono orribile, non è vero? Orribile. La guardavo molto sorpreso, perché in faccia non aveva nulla, non un segno, non una macchia, non una cicatrice. Si voltò verso di me, gli occhi sempre bassi, e mi disse. Ho incontrato questa spaventosa malattia curando mio figlio. Lui l'ho salvato, ma io sono sfigurata. E ho dato la mia bellezza al mio povero figuolo. Del resto ho fatto il mio dovere. La mia coscienza è tranquilla. Se io soffro, soltanto Dio lo sa. Il dottore aveva in tasca un sottile pennello di quelli che usano gli acquarellisti. Lasciatemi fare, disse. Vi aggiusterò il viso. Lei porse la guancia destra e lui cominciò a toccargli la con pennellate leggere, come se vi posasse sopra dei puntini di colore. Fece altrettanto sulla guancia sinistra, poi sul mento, poi sulla fronte. Infine esclamò. Guardate, non c'è più nulla, proprio nulla. Lei preso lo specchio, si guardò a lungo e con attenzione profonda, acuta, con uno sforzo violento di tutta la mente per scoprire qualche cosa. Poi sospirò. No, non si vedono quasi più. Vi ringrazio infinitamente. Il medico si era alzato, la salutò, mi fece uscire e mi seguì. E appena la porta fu richiusa, ecco la storia atroce di questa disgraziata, disse. La signora Hermé è stata molto bella, molto elegante, molto amata, molto felice di vivere. Era una di quelle donne che al mondo non hanno che la loro bellezza e il loro desiderio di piacere per sostenersi, guidarsi e consolarsi nell'esistenza. La costante preoccupazione della sua giovane bellezza, la cura del viso, delle mani, dei denti, di tutte le parti del suo corpo, occupavano tutte le sue ore e tutta la sua attenzione. Rimase vedova con un figlio. Il bimbo fu allevato come lo sono i figli delle donne di mondo, molto ammirate. Tuttavia lei lo amava veramente. Il figlio crebbe e la madre invecchiò. Vede avvicinarsi la crisi fatale? Non lo so. Ha pure guardato come altre donne ogni mattina per ore e ore, la pelle così liscia un tempo, così chiara e trasparente, un tempo che ora si increspa un poco sotto gli occhi, si gualcisce con mille segni ancora impercettibili ma che diventeranno sempre più profondi giorno per giorno, mese per mese. Ha visto forse ingrandirsi pura, continuamente, lente ma sicura, le lunghe rughe della fronte, quelle serpi sottili che nulla può arrestare. Ha subito la tortura, l'infame tortura dello specchio, del piccolo specchio del manico d'argento, che non ci si risolve a rimettere sul tavolo, che si getta via con rabbia e che subito si riprende in mano per tornare a guardare da vicino, più da vicino, l'odiosa e inevitabile devastazione della vecchiaia che avanza. Forse si è appartata a dieci, venti volte al giorno, abbandonando senza ragione il salotto nel quale stanno conversando le amiche per salire nella sua camera e, protetta da chiavistelli e serratura, per guardare ancora una volta il lavoro di distruzione della carne che avvizzisce, per constatare con disperazione il leggero progresso del male che nessuno ancora sembra vedere, ma che lei conosce anche troppo bene. Lei sa dove sono le offese più gravi, i morsi più profondi dell'età, e lo specchio, il piccolo specchio rotondo nella sua cornice d'argento cesellato, le dice cose orribili perché parla il piccolo specchio, sembra che rida, che si diverta a sbeffeggiarla e le annunci tutto quello che sta per avvenire, tutte le miserie del corpo e il supplizio atroce del pensiero fino al giorno della morte, che sarà anche quello della sua liberazione. Forse ha pianto, disperata, in ginocchio, la fronte a terra. Ha forse pregato, pregato colui che uccide così le creature umane e non da loro la giovinezza se non per rendere più dura la vecchiaia e non da loro la bellezza se non per riprendersela subito. Lo ha forse pregato e supplicato di fare per lei ciò che mai egli ha fatto, per nessuna, di lasciarle fino all'ultimo giorno il fascino, la fresca gioventù, la grazia. Poi comprendendo che implora in vano l'inflessibile ignoto che spinge avanti gli anni uno dopo l'altro, si è forse arrotolata sul tappeto della sua camera, torcendosi le braccia. Ha forse battuto la fronte contro i mobili, reprimendo in gola gli spaventosi gridi della disperazione. Certamente lei ha subito queste torture. Infatti ecco quello che capitò. Un giorno, aveva allora 35 anni, suo figlio, che ne aveva 15, si ammalò. Si mise a letto senza che fosse possibile determinare la causa e la natura del male. Un abate, precettore del giovinetto, vegliava nel suo capezzale e non lo abbandonava mai, mentre la signora Erme viveva mattina e sera a prendere sue notizie. Entrava al mattino in vestaglia sorridente, già tutta profumata e domandava dalla soglia. Ebbene, George, andiamo meglio? Il fanciullo rosso del viso gonfio e roso dalla febbre rispondeva, sì, mammina, un po' meglio. Lei si tratteneva pochi minuti nella camera, guardava le fiale delle medicine facendo a fior di labbra. Poi d'improvviso esclamava, ah, dimenticavo una cosa molto urgente, e fuggiva di corsa lasciando dietro di sé una scia di profumo. Alla sera lei compariva in abito scollato perché più frettolosa, perché era sempre in ritardo e aveva appena il tempo di domandare, e allora che ha detto il medico? Labate rispondeva, non si è ancora pronunciato, signora. Ora una sera labate rispose, signora, vostro figlio ha il vaiuolo. Lei gettò un grido di paura e scappò via. Quando l'indomani la cameriera entrò nella sua camera, sentì anzitutto un forte odore di zucchero bruciato e trovò la padrona con gli occhi spalancati, il viso pallido per l'insonnia. Tremava di angoscia nel suo letto. La signora Hermè, appena furono aperte le imposte, domandò, come sta, George? Non sta bene oggi, signora. Non si alzò che a mezzogiorno, prese due uova e una tazza di tè, come se fosse malata. Poi uscì e si informò da un farmacista dei modi di permunirsi dal contagio del vaiuolo. Rincasò all'ora di pranzo carica di fiale e si rinchiuse subito nella sua camera, dove si impregnò di disinfettanti. Labate l'aspettava in sala da pranzo. Appena lo vide, gridò con voce piena di emozione. Ebbene, non c'è miglioramento. Il dottore è molto preoccupato. Lei si mise a piangere. Non poteva mangiare nulla, tanto era tormentata. Indomani, dopo l'alba, fece prendere notizie, che non furono migliori, e passò tutto il giorno nella sua camera, dove alcuni piccoli braceri fumavano e diffondevano forti profumi. La domestica disse che tutta la sera l'aveva sentita piangere. Una intera settimana passò così, senza che lei facesse altro che uscire un'ora o due a prendere un po' d'aria verso la metà del pomeriggio. Adesso domandava ogni ora notizie, e quando erano più cattive, si inghiozzava. La mattina dell'undicesimo giorno, Labate, dopo essersi fatto annunciare, andò da lei grave in viso e pallido, e disse, senza accettare la sedia che essa gli offriva. Signora, vostro figlio sta molto male, e desidera vedervi. Lei cadde in ginocchio gridando, oh mio Dio, mio Dio, non avrò il coraggio, mio Dio, soccorretemi. Il prete riprese, il medico ha poche speranze, signora, e George vi aspetta. Due ore più tardi, poiché il giovinetto, sentendosi morire, invocava di nuovo la madre. Labate ritornò da lei e la trovò ancora in ginocchio. Piangeva ancora e ripeteva, non voglio, non voglio, ho troppa paura, non voglio. Labate tentò di convincerla, di farle coraggio, di trascinarla. L'unico risultato fu che le procurò una crisi di nervi, che durò a lungo, e la fece urlare di dolore. Il medico, ritornato verso sera, fu informato di questa vigliaccheria, e dichiarò che l'avrebbe portata egli stesso, per amore o per forza. Ma dopo aver provato tutti gli argomenti, quando si decise a prenderla di peso per portarla da suo figlio, lei si afferrò alla porta e vi si aggrappò con tanta forza che non fu possibile staccarla. Il medico la lasciò, e lei allora si buttò ai suoi piedi, chiedendo perdono, scusandosi di essere così vile, e gridando, oh George, non deve morire, vi prego, dittegli che io l'amo, che l'adoro. Il ragazzo agonizzava, rendendosi conto che era all'estremo, supplicò che convincessero sua madre a venire a dirgli addio. Per quella specie di presentimento che hanno talvolta i moribondi, aveva capito e indovinato tutto, e diceva, se mia madre ha paura di entrare, pregatela soltanto di venire attraverso la terrazza, fino alla mia finestra. Fate in modo che possa vederla, che possa dirle addio con uno sguardo, poiché baciarla non posso. Il medico e l'abate tornarono una volta ancora da quella donna. Voi non rischiate nulla, le dissero, ci sarà un vetro fra voi e lui. Lei la consentì questa volta, si coprì la testa, prese una boccetta di sali, fece tre passi sul balcone, poi, all'improvviso, nascondendosi la faccia tra le mani, gemette. No, no, non oserò vederlo, mai, mai. Ho troppa vergogna, troppa paura. No, non posso. Fecero per trascinarla, ma lei si aggrappava con ambo le mani all'inferriata e cacciava tali grida lamentose che i passanti in strada si voltavano a guardare. E il moribondo aspettava. Gli occhi, volti alla finestra, aspettava, per morire, di aver visto un'ultima volta il caro e dolce volto, il volto sacro di sua madre. Aspettò a lungo e scese la notte. allora si voltò verso il muro e non disse più una parola. Morì all'alba. L'indomani sua madre era pazza.